ero fatta qua è arrivata la mamma si è fermata un po' gioco forza era d'inverno no no sono andato a Milano poi di volta è venuta qui è stata qui finché aveva 5 anni poi le scuole poi il padre che faceva il padre di lei della mamma mi faceva e diceva ma come in giungla cosa tiene la bambina in giungla è venuto fino a qua il padre cosa impara la lingua incarnatata il padre è un avvocato di lì allora gli ha preso la casa le cose le storie e la bambina Papa Cesare ti auguro tanta fortuna e ti sta bene io cerco di far meglio sono di fronte e lo faccio meraviglia dai ti hai infamato sempre io cerco se mi riesce faccio il possibile io boh babba Cesare è l'unico nella zona a possedere e ad adoperare un computer ora mostra ai suoi amici un video su una setta speciale di Sanu gli agori che dormono solitamente nei cimiteri e usano teschi umani come coppe ci sono dovuti sono sono le fasi ma non si sono l'unico non se si parla non la sottote io non la sottote non la sottote non la sottote se fosse una coppe si parla ma non la sottote la sottote avevo questa sensazione che c'era sepolto un tesoro e sono venuto giusto per quella ragione, attratto da quella situazione, ho detto ma cosa c'è lì? Sono venuto lì, ho visto poi il lingam e il... Il Baba racconta di un antico tesoro nascosto dagli abitanti di Vijay Nagara ai tempi dell'invasione musulmana. Una leggenda vuole che i preziosi siano sepolti sotto una grossa pietra posta in groppa ad un elefante di granito. Il Baba ritiene di aver individuato un masso dalla vaga forma di elefante e sulla cima di questo ci mostra la grossa pietra triangolare che potrebbe celare il tesoro. giunge infine l'ora del tramonto e Baba Cesare celebra ancora una volta il una puggia per salutare il sole e il suo eterno ciclo di morte e rinascita. A cena due ciapati cotti sul fuoco del duni, il sacro focolare, le uniscono e le uniscono ultime chiacchiere con i discepoli e gli amici e poi un sonno ristoratore in attesa di un nuovo giorno. giorno. Girando si era infilato dentro sto sacco di plastica e poi era stato agganciato e non riusciva più a uscirne. Anche questo c'erano tutti gli sfranciamenti che gli avevano girato intorno e non riusciva più a togliere solo. Lui non ha le mani, no? Quindi smatteva di quelli qua e di là. Questo è un serpente grosso. Sono paretti. Una volta me ne cadutano sui piedi grosso, nero, si buttano dalle pietre alte, no? Ero lì. Si buttano dalle pietrate e si fanno duri, no? E cadono così. Questo mi è caduto sui piedi, sui piedi, sui piedi. Io ho fatto un salto da una parte o mi è fatto un salto dall'altra? Si è spaventato anche lui qui. Tieni salto! Allora, allora. no e 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 Grazie a tutti. 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 Chissà se in realtà il Baba il suo tesoro non l'ha già trovato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.